come usare nvidia app il nuovo pannello per registrare fare clip live scaricare drive e fare moltissime cose anche ai giochi quindi ottimizzare la grafica ai giochi grazie al nuovo pannello di nvidia app beta quindi in questo caso non ci vuole niente scaricarlo e installarlo poi bisogna fare l'accesso con un tuo account qualsiasi io ho collegato il mio account google quindi in questo caso tu vai a scaricare così la beta la scarichiamo e installiamo così la beta una volta letto così il contratto accetta e install e ovviamente già tengo l'applicazione nvidia app sul mio computer quindi in questo caso una volta fatto apriamo il nostro pannello eccolo qua che sta proprio qui ha sostituito così geforce experience e il pannello di controllo di nvidia che troverai direttamente qua sotto oppure vuoi scrivere direttamente nvidia e ci clicchi sopra e si aprirà così il pannello una volta fatto adesso vi spiego come usare al meglio questo nvidia app ovviamente questa è la home dove fanno vedere tutti gli annunci tutte le notizie di nvidia questi sono i driver dove vai a scaricare e installare i driver più aggiornati e più recenti per la tua scheda video come puoi vedere ci sono più informazioni ti fa anche capire cos'è che hanno sistemato e cosa c'è di nuovo e poi c'è la grafica qui la grafica è cambiata riguardo ai giochi tu selezioni così un gioco un programma e lo puoi ottimizzare su nvidia impostazioni programma impostazioni globali quindi impostazioni programma come puoi vedere io prendo un gioco gioco sonsoft forest metto prestazioni e faccio ottimizza ottimizerò così il gioco scendo fino a giù e posso anche cambiare fare delle modifiche su impostazioni driver il dimensionamento immagine che puoi attivare renderizzare così l'immagine del gioco nitidezza la puoi aumentare o abbassarla modalità bassa latenza tecnologia monitor compatibilità gsync sincronizzazione verticale metto disattivato impostazioni globali stessa cosa come il pannello che stava qua sotto il pannello di controllo di nvidia adesso è tutt'uno quindi ci sia geforce experience che il pannello di controllo di nvidia sono diventate una sola cosa nvidia app ed eccola qua poi c'è riscatta qui ci sono i premi bonus e le impostazioni dove ti fa vedere le due i tuoi componenti le specifiche tutto funzioni sovrapposizione nvidia adesso vi spiego anche come usare la sovrapposizione perché hanno modificato anche la sovrapposizione l'hanno anche migliorata quindi sovrapposizione in video tu l'attivi poi si apre con alt più z filtri di gioco tu attiva tutto e adesso non ci resta che avviare la sovrapposizione alt più z prima questa sovrapposizione usciva qua quindi in questo caso andiamo un attimo su instant replay disattiviamo un attimo l'instant replay configura cattura video qui puoi configurare così come vuoi registrare giochi tuo schermo come puoi vedere risoluzione 1440p frequenza fotogrammi questa volta possiamo anche registrare fino a 120 fps velocità di trasmissione per migliorare la qualità video di un gioco o quello che stiamo registrando sullo schermo fino a 130 megabit al secondo qualità bassa media alta personalizzata risoluzione 4k durante il gioco frequenza fotogrammi 60 30 fps io avendo una 1660 super non ho problemi di lag quando registro 130 megabit al secondo puoi anche smanettarci sopra e capire qual è il tuo la tua configurazione perfetta per registrare metto 1080 120 fps 130 megabit al secondo una volta fatto questo invece durante l'instant replay che sarebbe così salva gli ultimi minuti di quello che stai facendo in un programma o in un gioco adesso ti faccio anche vedere un'olta configurato attiva l'instant replay una volta fatto vai direttamente su impostazioni cattura no tasti di scelta rapida qui puoi mettere i comandi per esempio dove stava salva gli ultimi tre minuti che ho configurato quindi alt più f9 io premo alt f9 mi salva gli ultimi tre minuti attiva disattiva registrazione premo questo tasto attiva 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 l'instant replay alt più shift f10 vabbè io lo attivo e disattivo manualmente proprio là sopra poi cosa c'è più l'audio audio di sistema microfono volume potenziamento del microfono spazio disco e file qui puoi scegliere così la posizione dove ti salverà così l'instant replay per esempio se adesso vado sulle mie cartelle vado nel mio disco volume d eccola qua qui ci sono più o meno 207 registrazioni 207 gigabyte di registrazione che ho fatto sullo schermo e sui giochi eccole qua andrà così a creare una cartella del nome del gioco e te la metterai in a play quando andrai a registrare oppure andrai a salvare così una grip quindi in questo caso prima di registrare questo tutorial ho voluto testare così la registrazione su un gioco quindi in questo caso ho registrato sonsoft forest in risoluzione 4k però nel gioco era full hd 120 fps con la qualità 130 megabit al secondo e la registrazione è perfetta veramente perfetta come puoi vedere se vado direttamente su proprietà dettagli 120 fotogrammi al secondo questa è la risoluzione senza nessun problema di lag quindi torniamo un attimo sulla sovrapposizione di invidia momenti salienti tipo per esempio come puoi vedere giochi sopportati quelli che tengo installati sul pc quindi in questo caso per esempio se io adesso seleziono fortnite eccola qua avete già capito cosa significa se tu uccidi 10 giocatori o 20 giocatori ti salva ogni uccisione del giocatore che è ucciso su fortnite eliminazione morte vittoria tripla eliminazione si ti salva anche la tripla eliminazione e devi attivarla momenti salienti è tutto automatico basta che la tieni attiva poi abbiamo il filtro di gioco che ovviamente se io entro in un gioco posso aggiungere dei filtri bianco e nero più luminosità più nitidezza effetti speciali hanno aggiunto anche gli effetti speciali vignetta acquarello bellandezza dinamica ray tracing poi cosa c'è più modalità foto alto più f2 che puoi fare uno screenshot direttamente con i tasti beh io ovviamente premo il tasto windows più shift più s mi appare così il cattura schermo quindi la modalità foto non la uso non la uso quasi mai questo invece è il lato dove ti vengono così messe queste altre sovrapposizioni tipo del microfono momenti salienti registrazione live tutte le statistiche come puoi vedere in alto a destra ci sono le statistiche mie per esempio registra in basso a sinistra in alto a sinistra nessuno in alto a destra non verano meglio con quello in basso e qui vuoi impostare dove mettere questi sovrapposizioni lei auto dove vuoi mettere quindi quindi in questo caso questo è il nuovo pannello di controllo dove vai a registrare salvare clip aggiornare driver per la tua scheda video ottimizzare così la grafica nei giochi un pannello che veramente si merita nvidia ha veramente fatto un bel lavoro le statistiche alt più r e si attivano così le statistiche uso gpu temperatura gpu bloc gpu velocità vendola gpu visualizza tutto latenza mouse addirittura la latenza mouse eccola qua latenza mouse latenza media pc latenza di rendering e questo è il video è stato utilissimo su come usare nvidia app un ottimo pannello e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao